Prima di tutto quello che stavo a dire è forse un luogo comune, non sono stato io però a scegliere le canzoni, sono state le canzoni a scegliere me. Non è tanto il fatto di aver ascoltato delle versioni di queste canzoni fatte da artisti prima di me, ma è di aver avuto una visione di questo album come qualcosa di intero, di completo. C'è un libro che amo che si chiama The Outliers, non so quale sia la traduzione italiana, se c'è. È una raccolta di racconti che spiegano la teoria del successo secondo il suo autore. E quindi la mia idea era quella di raccogliere una serie di brani che potessero fungere da brevi racconti per esporre la mia teoria sull'amore. From the first song to the last, it's a continuous story, a through line, through a study of this word, this emotion, the spectrum of emotions that come with one word that means so much to so many. C'è un filo conduttore in tutto l'album, ogni canzone è conseguenziale all'altra in quanto espone una visione di questa cosa che chiamiamo amore in tutte le sue sfaccettature.